Perchè? Perchè fate sempre sto rumore? Ciao a tutti e bello a questo nuovo video, io sono Raffaele e siamo tornati Su FNAF1 Allora, gli episodi sono già qui, ci sono dei buoni qui fermi Non so se in quest'otto oppure nella prossima focus si comincerà a avvenire Perchè siano dei passi? Raga? Coddisc, che cazzo è? Madonna, come l'ho odio sti stragg Mi è perso di vedere qualcosa di cambiato qui Vabbè, ci vediamo a luna di notte, luna di notte Ok Ok, la finiamo di camminare Vabbè, ma cos'è uno scherzo questo? Sì, è un rissecco, ci ho fatto prendere un colpo Dov'è? Bonnie? Chica! Ok, sta qui Dove cazzo è Bonnie? Ok Non è ancora riuscita nella porta Perché se non sbaglio, prima di aver riuscita nella porta deve andare in cam 3 Poi arriva qui Beh, forse... beh, per alcune notte, non so se è un easter egg oppure bla 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 Ciao Ciao La porta la chiudiamo Chica Stai qui Hai che tu freddi? Vabbè Ok, sono andato Muori! Ok, credevo che ci fosse Infatti c'è Perché non sto mai zitto? Ho detto... credo che ci fosse Infatti c'è Allora, guarda un po' Le due di notte Battere stanno 4.100 Ma prendi per il culo Bonnie! E vabbè, qualcos'altro magari Andate... no, anche Gesù Ma qualcos'altro? Perché è l'ultimo? Fai muovere pure Freddy Freddy Fazbear Pizza Però Bonnie, non è che puoi stare otto anni della tua vita in questa stanza Dove ci... Ah... Let's sit Sì bravo, vai a mangiare Piuttosto che venire a prendere la guardia Questo è uno spoiler si chiamava... Mike qualcosa Mike qualcosa si chiamava No aspetta Quella... No... Quella è... Cioè quello è quello del 2 se non sbaglio Ragazzi Qui... Qui... Come si chiama? Nell'1 Comandiamo il purple guy Io lo farei uccidere Cioè... Cioè loro... Se facciamo il contrario E' lui che... Cioè... Loro vuoi uccidere A lui invece E' lui che uccide a loro Quando poi si infila nella cosa di sprint Vorrei vedere... Vorrei vedere gli strig di... Di freddi Oh... 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 Sì... Ister egg di freddi Quattro di notte Quattro di notte Sciogli quattro... Ancora si easter egg basta Vai via Ok con io più... Quattro di notte Fammi i tuoi easter egg Fammi i easter egg Bravo Pazzo C'è sto rumore Ok nella cucina Nella cucina Tutti noi andiamo nella cucina La bellissima cucina Ragazzi voglio farvi vedere un easter egg Sempre se viene la... Ecco guardate Se faccio così Poi faccio così Rimane la camera Della cucina 23% Sulle quattro di notte Ragazzi non ce la posso fare 21% Quattro di notte E' impossibile vincere Mi sto agitando Mi sto agitando Sto tutto quanto Sudato qui Normale che Chia abbia perso Certo mai Certo Dai Mo possa Prepariamoci per il jumpscare Che cazzo me ne frega me Questa tornare indietro Ci mancano soltanto tre stanze Che cazzo sei tu 5 di notte Se fosse rostato Cioè se la batteria fosse ancora al 20% A quest'ora Quando sarebbero spento tutto quanto Allora Già avrei vinto Però non ho vinto Manco per il tazzo Il tazzo è la gallina Cica Da chi Allora La prossima volta mi fa prendere paura Ti giuro che ti strappo con le orecchie Bonnie Tu sei da chi Lo stronzo qui È brutto sole Sì perché è brutto E allora vaffanculo 5 di notte batteria 6% Porca troia Perché siete tutti vicino alle mie porte Andatene via Ma veramente Ha funzionato E vabbè 1% E' inutile Prepariamoci per lo spalento Cioè per i jumps Che tanto a me Niente fa paura In questo gioco E addio E' certo Ormai abbiamo perso Perché scompaiono sempre I tasti League The door Quanto spegne la luce Sì Sì Au Porca troia No 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 basta Basta Sto scherzando Facciamo la notte Ma andiamo la testa Sotto Però ragazzi Sto scherzando Perché la faremo Nel prossimo episodio Io vado Ad uccidere Un coniglio Lo pitturro Prima lo pitturro Di celeste Cioè di blu E poi L'ho uccito Quindi ragazzi Un mi piace Per Freddy E tu muori Fongai E noi ci vediamo Nel prossimo Video Tendo un easter egg E vabbè C'è scomparsa La gallina Pau Ti ucciderò Mentre dormi